Durante il lockdown, quando le notizie ci dicevano che la scuola non sarebbe riaperta, è iniziato a mancare ogni giorno di più i bambini, perché per me il mio lavoro è vita. E allora ho iniziato a pensare quale poteva essere un mezzo per avvicinarli rispettando quelle che erano le regole del momento. E allora ho pensato, e siccome ho una grande passione per i libri, di andare con una valigia piena di libri a leggere storie per i bambini. Questa iniziativa non è assolutamente didattica, è semplicemente lettura di storie. Anzi, io con la mia collega continuiamo ai nostri bambini a inviare la didattica anche a distanza. Questo è stato proprio un modo per me di sentirmi utile per la società. Io continuerò a leggere e per fortuna altre amiche colleghe hanno trovato il coraggio e andranno in altri giardini di Prato a leggere. Quindi questa cosa mi fa piacere. E altri anche colleghe fuori Prato hanno aderito a questa iniziativa. Quindi questa cosa si sta un po' allargando. Vuol dire che è piaciuta.